Per quanto riguarda il comune di Monsampolo la situazione resta comunque sotto controllo anche se particolarmente delicata perché infatti da ieri i casi positivi sul nostro territorio sono aumentati quindi siamo arrivati a 7 persone, a 7 cittadini che risultano positivi all'esame del tampone. Di questi 7 cittadini abbiamo una coppia di coniugi che è ricoverata presso l'ospedale di San Benedetto del Tronto, le loro condizioni stanno via via migliorando, per fortuna sono stati riportati in reparto dalla Camera di Terapia Intensiva quindi si va verso un miglioramento e questo ci fa davvero piacere. Poi abbiamo un nucleo familiare di 5 persone che era entrato in contatto proprio con questi due cittadini e quindi tutti quanti sono risultati positivi, proprio ieri sono arrivati gli esiti dell'esame del tampone. Quindi ecco 7 casi positivi più abbiamo altri 5 casi che sono stati messi in isolamento domiciliare e precauzionale quindi da parte dell'Asur. Insomma la situazione è delicata come dicevo anche se da questo punto di vista devo fare un plauso ai miei concittadini perché stanno rispettando tutte le regole quindi nonostante la situazione sia delicata però il territorio di Monsampolo, la comunità di Monsampolo sta rispondendo bene perché comunque si attiene alle regole perché comunque nelle attività commerciali che sono aperte sul territorio vanno in maniera ordinata rispettando quelli che sono i loro turni, sono dotati di mascherine, di guanti quindi devo dire che i miei concittadini stanno rispondendo davvero bene e quindi ecco si sta andando avanti, si sta facendo fronte, cercando di far fronte giorno dopo giorno a questa importante emergenza che sta in qualche modo aggredendo il nostro territorio.